No, dell'umore sì, senza dubbio, anche perché comunque il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, oltre alle due reti, addirittura abbiamo avuto anche la possibilità di farne una terza. Poi nel secondo tempo effettivamente siamo stati un po' più fermi, un po' più fermi noi e loro si sono rivitalizzati. No, non erano contropiedi, è che loro avevano giocate più veloci, avevano giocatori bravi tecnicamente dalla metà campo in su e nell'uno contro uno hanno sempre vinto il confronto palla al piede e lì hanno dato vitalità a tutta la squadra. A volte capita, a volte capita anche perché noi cerchiamo comunque di giocare la nostra partita, con i due laterali, i quinti in questo caso, che devono comunque accompagnare l'azione offensiva, perché è un nostro modo di giocare, però d'altro canto credo che sia più quello che ho detto prima. Loro nel secondo tempo hanno dato più vitalità alla loro manovra. L'inizio sicuramente disastroso, quando si è chiesto proprio quello di avere subito un approccio alla partita di un certo tipo, perché dovevamo subito metterla su certi binari, invece non è stato così. Abbiamo preso due gol incredibili e poi è fatto fatica, però la squadra ci ha creduto sempre, abbiamo aggiustato un po' di cose e la partita era riuscita a vincere, nonostante tutte le disavventure che ci erano state in questa gara. Poi puntualmente gli episodi ci danno una mano, un calcio d'angolo che non esiste, non c'è un calcio d'angolo, poi dopo ci pigi i gol. Adesso in questo momento qualsiasi cosa fai la paghi al caro prezzo, è quello che dà fastidio perché i ragazzi avevano sbagliato sì, però ci avevano creduto e avevano fatto una grandissima impresa vincendo una partita sul 3 a 2, poi dopo c'è sempre qualcosa e qualcuno che ci rovina i piani.